Il tempo di bilanci anche per l'Università di Trapani. Questa mattina il polo di Via Dante Alighieri ha iniziato l'anno accademico con un forum dal titolo Bilancio e prospettive. Proprio queste sono state tracciate i nostri microfoni dal preside Ignazio Giacona. Abbiamo fatto dei passi che appunto siamo in grado di poter sostenere, mantenere. Abbiamo attualmente quattro corsi, giurisprudenza, viticoltura, scienza del turismo e consulente giuridico di impresa. Avevamo anche un corso in architettura e ambiente costruito che però abbiamo visto che non riscuoteva il necessario interesse e quindi l'abbiamo tolto. Presente con una sua lezione magistralis l'imprenditrice Vitivinicola Giuse Rallo che ai ragazzi ha fatto un intervento incentrato sul creare valore in Sicilia con percorsi di crescita prendendo ad esempio il settore in cui opera. Ascoltiamola. L'anno accademico è un'occasione per parlare sicuramente di studio, di formazione. Ho voluto dire, raccontare un po' ai ragazzi cosa ha fatto di bello il settore del vino in tutti questi anni, il suo modo di fare squadra, il suo modo di vincere sui mercati puntando sulla qualità. Tutto questo ovviamente si ottiene con la preparazione e con le competenze. Quindi ho invitato i ragazzi ad una formazione forte, convinta, ma ho voluto anche avvertirli che la formazione nella vita non finisce mai. Infine il rettore Fabrizio Micari che non ha lesinato una stoccata ai grillini per le cronache di questi giorni dove la laurea è stata al centro di tanti dibattiti della politica italiana. Io sono assolutamente convinto che lo studio, l'istruzione, le competenze, le conoscenze siano fondamentali per la crescita delle persone e siano fondamentali anche per la crescita poi di tutto il sistema sociale, di tutto il sistema della società. È vero, oggi sentiamo degli attacchi continui al valore della competenza, sembra quasi che essere competenti sia una macchia, attacchi alla laurea, si parla di eliminazione del valore legale della laurea. Ecco, io naturalmente non posso che essere in totale disaccordo rispetto a queste idee, proprio nella misura in cui invece io rimango legato al modello dell'ascensore sociale, rimango legato al modello per cui con la cultura, con la formazione, si costruiscono le persone e si costruisce la società.